Semplice, conveniente, inclusivo. È il biglietto unico del sistema museale civico che l'amministrazione comunale ha attivato per offrire ai visitatori un'esperienza culturale più ampia e bariegata, in linea con le grandi città europee. La card è unica alla validità di tre giorni e permette, con una tariffa vantaggiosa rispetto all'acquisto dei singoli biglietti, la fruizione integrata di tutti i siti del patrimonio culturale del Comune. Il Palazzo della Cultura, con il Museo Emilio Greco, il Museo di Castellursino, il Museo Vincenzo Bellini e il camminamento di gronda della chiesa monumentale San Nicolò Larena. L'acquisto può essere effettuato nelle biglietterie dei quattro siti, con le tariffe, biglietto unico family, due adulti e due ragazzi di età compresa tra i 11 e i 18 anni a 30 euro, biglietto unico una persona a 12 euro, biglietto unico due persone a 20 euro. La card è valida per tutti i siti comunali, per il Castellursino, in occasione di mostre temporanee, al costo del biglietto unico andranno aggiunti 4 euro, due per ragazzi tra i 11 e i 18 anni.